Buongiorno e bentornati a Iulo, l'arte per l'arte. Oggi riprenderemo il discorso che abbiamo fatto su Micene. Abbiamo parlato di città che erano città fortezza. Ecco, io vi raccontai nella puntata precedente che le mura intorno alla cittadella di Micene, ora vedremo che cos'è questa cittadella, la cosiddetta Acropoli, vennero erette nel Tardo Miceneo. Il Tardo Miceneo è anche l'epoca nella quale la civiltà micenea venne conquistata dai Dori. Quindi era necessario proteggersi. Dopo secoli di saccheggi, questo facevano i Micenei, e di conquiste e di distruzioni di altre civiltà, vi ricordo Troia, vi ricordo la civiltà minoica, delle loro città, avevano bisogno adesso di difendersi dall'arrivo dei Dori. Vi ricordo che l'unica città che rimase Achea, si racconta, dopo l'invasione dei Dori, fu Atene, dalla quale poi fiorirà la civiltà classica. Ecco, città fortezza. Questa parola viene data dallo spirito guerriero che i Micenei avevano, spirito molto diverso dai Minoici, che amavano invece la natura, che amavano non contornarsi di Mura, si sentivano protette dal mare, protette dal mare, dal loro Dio Poseidon, dalla loro flotta. Questi invece i Micenei erano dei guerrieri, dei guerrieri che dovevano essere armati, dovevano avere delle armature molto solide, grandi asce, grandi spade, grandi carri da guerra, che sentivano l'esigenza, proprio per questo, di proteggere la loro vita terrena, perché loro tenevano le cose di questa terra. Vi faccio notare, ad esempio, nella tomba Tolos, di cui abbiamo parlato l'altra volta, il Dromos. Il Dromos, che è questo corridoio lungo che permette di accedere in questa tomba, se guardate, parte a terra e si alza in maniera inclinata fino a 5 metri di altezza circa. Cioè si passa dalla luce al buio, vedete? Cioè da una situazione dove ancora con le mura intorno si vede la luce per entrare nel buio che è in questa Tolos. Questo guardate che ha un senso anche nella vita spirituale dei Micenei. Cioè i Micenei volevano vivere in terra, volevano soddisfare tutte le loro passioni, di ogni genere esse fossero, e non li importava in particolare la vita dell'aldilà. Certo, avevano anche loro i loro dei, non dimentichiamoci che dai Minoici, dagli Achei, nascerà poi la civiltà dai Dori, la civiltà greca, vera e propria. Però loro in particolare volevano godere della vita terrena e quindi razziavano e portavano tutto in casa e quindi passare dalla vita terrena, la vita ultraterrena, non era tanto come la maggior parte delle civiltà passare dal buio alla luce, ma era il contrario, passare dalla luce al buio. Questo era il simbolo anche che sta nella tomba a Tolos. Questa tomba a Tolos che, come vi accennai la scorsa volta, venne chiamata tesoro, perché Schliemann confuse che in queste tombe a Tolos ci stesse il tesoro dei re Micenei. Invece ci stava un tesoro che era però un ornamento funerario, maggior parte di armi da guerra, carri da guerra, scudi, elmi, molte volte totalmente coperti di lamina d'oro. E vi era il sepolcro. Omero disse, no? Una città d'oro, una città tutta d'oro, cioè una città dove si portavano, per il saccheggio l'oro, prendevano e portavano lì dopo aver distrutto. Ecco, per accedere alla cittadella, cioè vi era l'asti, cioè vi era la zona per intenderci dove stava la popolazione, dove stava, insomma, la gente comune, e poi vi era la cittadella. La cittadella che era recintata recintata da mura spessissime, si parla di sei metri di spessore per quanto riguarda Micene e di undici per quanto riguarda Tirinto, spessore, spessore, non dimentichiamoci, non stiamo parlando di lunghezza, che cingeva questa Acropoli, questa città dell'Acros in alto, no? Polis dal mare, avesse una distanza di circa dodici chilometri, e lì vi stava la sala del sovrano, il cosiddetto Megaron, il palazzo del sovrano. Il Megaron era la stanza, non del sovrano, dove vi era un grande focolare al centro, retto da quattro colonne, ma per accedere nella cittadella vi erano solo due porte, una, la principale, la Porta dei Leoni, scoperta nel 1842. Questa Porta dei Leoni, vedete, ha una forma dimensionata di tre metri e venti per tre metri di altezza, quindi non è grande per entrare in una cittadella. Ancora una volta fare le porte troppo grandi avrebbe permesso di far entrare il nemico, di perdere la vita terrena, fare le mura troppo poco spesse non avrebbe protetto a sufficienza, non è un po' come d'inverno, ci mettiamo un cappotto che sia di uno spessore o dell'altro, che abbia la pelliccia o meno, ci protegge di più. E poi c'erano i baluardi, vedete, sono quegli ingrossamenti che ci sono soprattutto sulla destra, dove dalla quale gli arcieri potevano scagliare frecce verso il nemico. Come era fatta questa Porta dei Leoni? La Porta dei Leoni è una struttura dalla quale possiamo già leggere quella che sarà poi la struttura successiva del Tempio greco. Ha una soglia, che è una pietra, vedete, che sta a terra scavata nella terra, ha due piedritti laterali che sono laterali alla soglia, poi al di sopra vi è una pietra, un'architrave, vedete la struttura trilitica che abbiamo trovato nei megaliti, e poi vi è un triangolo che viene detto timpano, che nel caso della porta che permetteva di accedere nelle tombe a Tolos era vuoto. Era vuoto perché? Perché il peso veniva distribuito dai mattoni che stavano laterali sui piedritti e non sull'architrave. Ecco, in questo caso però vedete che è sempre triangolare, in maniera sempre da distribuire, pur non essendo aperto come era nella porta che permetteva di accedere nella tomba a Tolos, comunque distribuiva lungo le diagonali, lungo questi lati inclinati, diciamo così, non si parla tanto di diagonali, ma questi lati inclinati del triangolo di scarico lungo i piedritti. Al centro vi stavano dei leoni, delle leonesse per la precisione, leonesse che sono rampanti, cioè hanno le zampe anteriori che poggiano sulla base della colonna, guardate in una caso minoica, noi siamo i conquistatori della civiltà minoica, questo il simbolo, un po' come quando nel Colosseo vennero messi i tre ordini di Capitelli, Dorico, Ionico e Corinzio, a seconda delle vari ordini di archi, e noi romani siamo i conquistatori della Grecia, cioè sono come fossero le teste del cinghiale per un cacciatore, come fosse la pelle del leopardo, ecco la colonna minoica conquistata dalle leonesse rampanti che sono il segno della forza micenea. E queste mura, queste mura ciclopiche perché si pensa costruite dai ciclopi, questi esseri con occhio solo, enormi, grandissimi, che lavorarono a realizzare queste grandi mura di recinzione. Questa è la civiltà micenea, è una civiltà che aveva paura di perdere la propria vita in terra, perché amava predare, amava saccheggiare, forse questo spirito però guerriero permise di dare, anzi sicuramente di dare a quella che sarà la futura civiltà greca, la spinta di saper guerreggiare contro i propri nemici, vi ricordo ad esempio le guerre persiane, no? Ecco. E di poter conservare in parte la propria civiltà, fino a che poi avverrà anche qui il declino, no? E poi l'avvento di Alessandro Magno. Ecco, questo spirito guerriero misto allo spirito, diciamo più aulico io definirei, no? Dei minoici che vivevano più a contatto con la natura, amavano la serenità, la bellezza esteriore e non solo la ricchezza, permetterà di forgiare una grande civiltà, la civiltà greca, della quale parleremo successivamente. Io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento di Julo, l'arte per l'arte. Grazie da Marino Ferraris. Ciao.